Back in ETV Benvenuti a tutti qua a Balconi TV Trento, io sono Fabrizio, oggi trasmettiamo dalla nostra amata terrazza del rifugio Bindesi e siamo in compagnia di Michele Di Emmi che ci presenta il suo brano Aquilone. Buon ascolto. Chiederò un'altra possibilità A questo giorno, a questo sogno Cercherò la mia vera identità In questo bicchiere che mi fa sentire bene Ti dicono che non fai più il caso nostro Ti dicono che è meglio qualcun altro Ti dicono che forse è meglio così Che se tu vuoi stai bene Cominciano a odiarti No, non lo so Cosa fare Ma continuo a provarci No, non lo so Cosa fare Ma continuo a provarci Perché se vengo poi Io non mi agito Perché se perdo poi Più forte mi alzerò No, non lo so Cosa fare Scriverò ancora Pagine Mi so Parla di solo Di promesse e perdono Danzerò intorno All'abitudine Di correre il rischio Di incrociare il distinto Ti dicono che non fai più il caso nostro Ti dicono che è meglio qualcun altro Ti dicono che forse è meglio così Che se tu vuoi stai bene Cominciano a odiarti No, non lo so Cosa fare Ma continuo a provarci No, non lo so Cosa fare Ma continuo a provarci Perché se vengo poi Io non mi agito Perché se perdo poi Più forte mi alzerò No, non lo so Cosa fare No, non lo so No, non lo so È un pezzo che avete appena sentito Aquilone è un pezzo che ho scritto Più o meno A novembre A novembre Fine 2016 Abbiamo proprio finito il pezzo insieme Di scriverlo sull'aereo Giusto quando eravamo Verso Londra Abbiamo scritto questo pezzo Praticamente insieme È il nostro primo pezzo Che abbiamo suonato insieme Quindi abbiamo detto Ok Apriamo le danze con questo pezzo Ha un valore Ha un valore Bene Parloci un po' di quello che hai in ballo Michele Sì, noi stiamo registrando Stiamo finendo di registrare il nostro primo album E niente Siamo veramente molto eccitati Siamo veramente molto contenti È un album che parla di noi Che parla di un dialogo Che noi facciamo con noi stessi tutti i giorni E quindi insomma È anche facile Sarà anche facile ascoltare Insomma sono pezzi molto Diretti Diretti Insomma Bene Speriamo piaccia Sicuramente No, più che altro Sai cosa Prima mi dicevi un po' Nel backstage Che state Siete tuttora in studio Cioè in questi giorni Siete impegnati Stamattina eravamo in studio Siete impegnati nella registrazione Siamo totalmente immersi Nelle registrazioni Però insomma È proprio il nostro periodo più bello Diciamo così Perché si entra in studio Si vedono i pezzi Insomma Si vedono nascere Le parti di batteria Basso Poi chitarra Le voci Doppie voci Insomma vediamo nascere il tutto Quello che costruiamo insieme Insomma È una bella soddisfazione Bravi Quindi quanti brani avrà Questo album nuovo? Avrà nove brani E uscirà? Uscirà Pensiamo a settembre 2017 Molto bene Quindi aspettiamo tutti quanti L'uscita del tuo disco Michele Che possiamo trovare? Lo troveremo sicuramente online Sì online Quindi c'è la nostra pagina Facebook Michele Diemmi E YouTube Spotify iTunes Eccetera eccetera Lo sapete meglio che me Quindi seguitelo Seguitelo Seguiteli Seguiteli Bene Michele Noi intanto vi ringraziamo Per esserci venuti a trovare Qui a Trento Da Parma Perché bisogna sottolinearlo Che voi avete fatto Un bel po' di strada Per venirci a trovare E quindi vi ringraziamo E se volete aggiungere qualcosa Salutare No vi ringraziamo È stato tutto bellissimo La location Potete vederla voi È bello Bisogna ammetterlo È bello Beh allora ne approfittiamo Noi per fare gli ultimi saluti Vi ringraziamo di nuovo E ringraziamo tutti voi Che ci seguite E che dire Noi vi salutiamo Col nostro consueto Consuetissimo Piacevole E amato Stay with us